...363, non sento. Sente? Essi si trovano sulla quota 363, davanti alla famigerata cola che bisogna attraversare per retarsi sulla quota 383, cioè a un posto unico nel suo genere che, nella sua sconsolatezza, può essere paragonato soltanto con il posto che sta sotto una forca. Ecco, parole di un'austriaca che racconta quasi con pietà come erano le posizioni, quindi con gli italiani con questa spada di Damocle e degli altri dieci sulla testa. Un'immagine in emu veloquente, questo è il cimitero più grande della zona di Blava, il cimitero Prelli, la quota 383 è quella che vedete in alto a vostra destra, le case in fondo, le case di Plava, dove gli italiani si erano aggrappati letteralmente con gli undi e con i denti. Questo tratto di fronte si sbloccherà nel 1917, due anni lì. Ecco, è giustificato anche questo enorme cimitero, assomiglia molto a quello di Camino, lo vediamo. Comunque, insomma, tutta la valle di Risonzo era tappezzata di questi cimiteri. Cimiteri che vedendo tutti i smalti...